Benvenuti, bentornati sul mio canale per una nuova puntata di Parliamo di Horror. Che film affronteremo oggi? Beh, venerdì 13, parte 8, Incubo a Manhattan, del 1989, diretto da Rob Edden e scritto dallo stesso regista assieme ad un ritornante Victor Miller. Bisogna dire che perlomeno questo film tenti di cambiare direzione alla saga, non mostrandoci per l'ennesima volta la solita storia di un gruppo di ragazzi che viene fatto a fettine a Crystal Lake, bensì Crystal Lake è il punto di partenza da dove salperà una nave da crociera stracolma di ragazzi che sono lì verso la New York dei loro sogni per festeggiare il loro diploma, ma con un invitato particolare, Jason Voorhis, che riemerge dal lago dove lo avevamo lasciato l'anno prima pronto per iniziare la sua mattanza. La nave da crociera si chiama Lazarus e in effetti Lazarus alzati e cammina e il Lazarus di turno è Jason Voorhis, cattivissimo. La trama è questa bene o male, la critica distrusse questo film definendolo addirittura il peggiore della saga. Stavolta non posso che essere in disaccordo, proprio perché vi dico in totale onestà che fra tutti quelli visti questo è quello che preferisco, subito dopo metto il quarto capitolo finale. La regia di Rob Eden l'ho trovata degna di nota, c'è una scena che mi ha colpito tantissimo anche a livello di guizzo registico, quella della pozzanghera, la pozzanghera infiammata dopo un incidente che poi si trasforma in questa bella transizione nel lago di cristallo dove anni prima la protagonista era lì su una barchetta con suo zio, suo zio la spinse in acqua, cattivissimo quel personaggio, e il bambino Jason la portò giù tirandola per i piedi. Da lì il suo terrore per l'acqua. Anche lei è su questa nave da crociera, certo il film ha dei difetti, non stiamo parlando di un capolavoro, non è certo Nightmare dal profondo della notte o il primo Halloween, non è non aprite quella porta, però è il film dove Jason Wuris ha più dignità, è il film dove Jason Wuris spaventa di più, almeno per quel che mi riguarda, dove le morti riescono a colpire, sono fra le più belle, ma soprattutto dove non si va incontro a quella ripetitività già vista e stravista, per quanto poi le dinamiche siano quelle, ma già un film che prova almeno a spostare la storia da Crystal Lake a Manhattan con un Jason Wuris che si muove per New York, a me rende la visione più stimolante e interessante. Anche il film che dura di più fra quegli usciti della saga, un'ora e quaranta, e devo dire che il tempo mi sia volato. Per di più c'è anche una minima caratterizzazione dei personaggi, c'è un minimo background di Jason Wuris che affoga, cose che negli altri film si lasciavano in disparte. Io penso al pessimo, Jason vive il sesto della saga, dove letteralmente si inseriva questa comicità inutile, addirittura con la parodia James Bond all'inizio. Qua invece c'è dell'ironia macabra, dell'ironia proprio anche cattiva, che si associa bene al personaggio, che si associa bene allo stile di Rob Eden registico, ma anche alla scrittura. Io mi sono proprio divertito con delle sequenze capaci anche di incutere timore, cosa raramente provata in quelli precedenti. C'è quello slow motion, quel rallent, mentre la protagonista guida la macchina e intanto vede di fronte a sé la visione dello sfigurato Jason da bambino con quell'occhio più alto, con un occhio più alto dell'altro, con questi gonfi sul volto che sembra un po' The Elephant Man. Comunque è un film dove i personaggi riescono a restare simpatici allo spettatore, anche la biondina stronza, no? Quella che poi tenterà di corrompere il professore portandosela a letto, fa fare anche un filmato al suo amico che vuole studiare cinema. Mi è dispiaciuto un sacco quando muore, fra l'altro poi questo film è citato nel meraviglioso Scream 6 di Radio Silence, è il film che all'inizio il ragazzo che muore guarda in televisione. Quindi io vi devo dire la verità, ho riscontrato dei difetti, proprio come in Jason Vive non mi è piaciuto come si faccia risvegliare Jason Wuris, perché questa caspita di elettricità che lo riporta in vita, quando si potevano benissimo inventare che lui fosse sul fondo del lago pronto a riemergere quando qualsiasi persona fosse passata da lì sopra. Chiunque avesse solcato quelle acque avrebbe risvegliato lo spirito dannato di Jason Wuris. Ed invece no, bisogna mostrare un'ancora che si incaglia in questi cavi elettrici sul fondo di un lago, che ditemi voi perché ci dovrebbero essere dei cavi elettrici da 3.000 volte sul fondo di un lago, in uno stabilimento balneare dove la gente va a prendere il sole e fare il bagno. Io non lo capisco, già era brutto questo espediente in Jason Vive, qua ho detto all'inizio se tutto il film è così ecco un'altra pesante insufficienza, ed invece tolto quell'inizio che poteva essere gestito in modo diverso, ho proprio trovato in questa pellicola quelle atmosfere che più volte avrei voluto riscontrare nei precedenti. Jason, sempre interpretato da Kane Hodder, è pazzesco qua, è veramente cattivo, incute timore, a volte in altri film sembrano, lo so, un ubriaco al pistoia blues, invece qua ha un suo perché, ha una sua dignità. Però, 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 colpo di scena. Questa volta al box office il film non è andato bene, forse proprio come con Nightmare, vi ricordate la mia retrospettiva, vi raccontai del quinto, il pubblico si era stancato delle solite storie di Jason Wuris, tant'è che realizzato con un budget di 5 milioni, quindi è lievitato, non è riuscito a guadagnarne nemmeno 15, tant'è che la Paramount decise di vendere i diritti alla New Line Cinema, che già deteneva quelli del grande Freddy Krueger, quindi della saga di Nightmare. Tant'è che già nel prossimo film, dove Jason andrà all'inferno, ci sarà una comparsata del guanto artigliato di Freddy Krueger, ma ne parleremo prima di far incontrare i due miti dell'horror in Freddy vs. Jason di Ronnie Yu, che poi ovviamente recensiremo andando avanti con la retrospettiva. Però, tornando a questo film, beh, innanzitutto dispiace che quello più riuscito a mio parere sia stato invece quello più maltrattato, quello più malvisto, eppure c'è una violenza incredibile. Mi viene in mente la scena del ragazzo che si fa tranquillamente una sauna e lì con l'asciugamano sul volto arriva Jason che prende la pietra ardente e gliela infila nel corpo, oppure penso anche il finale dove tutti iniziano a morire, ma tutti quelli morti nella nave da crociera. Lì per lì si stanno divertendo ed invece uno come uno ha chitarrate nel volto a quella povera ragazza e poi l'altro ragazzo che proprio... a me piace anche quello che fa box, che inizia a colpire, a colpire, a colpire Jason e poi Jason, già arrivati a Manhattan, tira un pugno al ragazzo in questione e lo decapita. Ma poi quanto è bello Jason che cammina per New York. Jason che arriva a New York e vede il suo stesso volto, cioè la sua maschera, per pubblicizzare la squadra di hockey e c'è quel momento diverso. Cioè qua l'ironia è sensata, non come nel pessimo Jason vive. Ci sono dei momenti che mi hanno divertito, come proprio quello dei pugni e il fatto che venga decapitato il ragazzo, ma anche le visioni che ha la protagonista con questo rapporto burrascoso con lo zio. Fortunatamente trova un ragazzo che riesce a comprenderla. Questo minimo background su di lei, sul fatto che abbia il terrore dell'acqua per un motivo ben preciso, la volontà anche di non replicare la stessa storia di ragazzi che vanno in campeggio e vengono uccisi. Poi certo, se vi aspettate una trama diversa, beh, non dovreste vederlo in cubo a Manhattan, perché comunque anche qua le persone muoiono. Però sono persone a cui ti affezioni di più, non personaggi di cui non ti può fregar di meno. Devo dire che anche la fotografia di Brian England funziona. È proprio un film che sprizza anche quel pop anni 80 da tutti i pori. Gli effetti speciali di Martin Becker sono bellissimi, bellissimi ragazzi. Anche sul finale quando Jason si toglie, anche la scena divertente in cui c'è quel gruppo di teppisti a cui lui dà un calcio allo stereo, questi gli vanno contro e lui si toglie la maschera e lo no, 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 scusa, scusa, scusa. Oppure la scena in cui si toglie la maschera nelle fogne. Ora, è un po' paradossale che ci sia veramente una cascata di liquidi velenosi, chimici che invade tutta la fogna, però vediamo Jason che viene folgorato, logorato da questo liquido sempre più in aumento ed intanto i due protagonisti che se ne vanno con il cane Toby, re di vivo, e che se ne si allontanano pian piano, perlomeno la macchina da presa si allontana pian piano lasciandoli sicuramente più sicuri e sereni rispetto a qualche minuto prima quando alle costole avevano continuamente Jason Voorhis. Poi il loro futuro chissà quale sarà, perché qua i personaggi scompagnano dal nulla. Anche Tommy è stato trattato malissimo, non solo è cambiato l'attore, ad un certo punto non se n'è più saputo nulla. Non pensavo che ci potesse essere un film più bello del quarto, anche se, parliamoci chiaro, non è che il quarto sia un capolavoro, ma rispetto alla ridondanza e ai filmettini che compongono la saga di venerdì 13, il quarto e l'ottavo sono quelli che secondo me anche registicamente si fan più ricordare. Poi effettivamente gli altri anche ammetto di dimenticarli velocemente, cioè io li sto guardando ogni giorno per questa retrospettiva, poi voi vedrete un video a settimana, io li sto registrando in anticipo, però ragazzi fatemi dire che già fatico a ricordare quando un certo omicidio è avvenuto, in quale film, perché sono tutti identici, non cambia niente, per questo il quarto e l'ottavo almeno mi hanno fatto dire dai nel quarto c'era una famiglia, poi il quarto lo ricordo anche perché c'erano dei doppiaggi del cuculo in Livornesaccio ai tempi, l'ottavo almeno ci si sposta verso Manhattan, c'è questa bella fotografia, le musiche per la prima volta non sono di Manfredini bensì di Fred Molin, quindi per la prima volta non c'è Manfredini, ma tutto il cast, il cast scelto da Jensen Daggett, Peter Mark Rickman, Scott Reeves, sono stati veramente bravi, Kane Hodder nei panni di Jason Voorhees, ripeto la biondina bulla sensuale con tutto il corpo tatuato, se pensiamo anche Jason, come si aggiri nella nave da crociera, le atmosfere, è un film che prevalentemente si svolge su questa nave da crociera e poi solo negli ultimi 30 minuti a Manhattan, però è un po' come quando vedi il dinosauro nel mondo perduto in città, non te l'aspetti di vedere Jason, perlomeno si prova a fare la differenza, poi non sarà un filmone, non sarà un capolavoro, però fossero stati tutti come Incubo a Manhattan o capitolo finale avrei detto ragazzi è proprio una bella saga, invece cioè chi la boccia lo capisco perfettamente, ripeto per me che amo lo slasher è comunque piacevole vederla, seppur in certi momenti mi sia annoiato, seppur in certi momenti si sfoci nella mediocrità, però perlomeno qualcosa qua è la riusciamo a estrarre dal cilindro e considerare superiore alla bassezza che abbiamo visto nei film precedenti. Quindi ragazzi questo è il mio parere al riguardo, peccato che Freddy e Jason non siano stati sfruttati di più dalla New Line Cinema una volta acquistati diritti, però è andata come è andata, sicuramente vedendo questi film mi piacerebbe, visto che oggi è il periodo dei rilanci, che facessero prima o poi un rilancio di queste saghe, ma nello stesso universo, nello stesso universo può coesistere Jason, Freddy, Ladderface, tante storie per poi arrivare tipo ad una Avengers di questi criminali, a me piacerebbe, sarebbe forse una tamarrata, chi lo sa, ma piuttosto che 20.014 film sulle possessioni demoniache o l'esorcista del papa, preferirei un qualcosa di più così folle. Ragazzi noi ci vediamo la prossima settimana per il primo film della New Line Cinema con Jason Wuris, però per me Incubo a Manhattan al netto di alcuni difetti, tipo l'inizio che non mi convince, seppur sia messo in scena meglio rispetto al sesto, devo dire che mi sia piaciuto. Mi è piaciuto e anzi mi sarebbe anche andato bene un capitolo, più capitoli successivi ambientati nella Grande Mela, ambientati in città. Io non ricordo bene Jason all'Inferno se non per Freddy che trascina giù Jason per poi andare a finire il tutto in una bolla di sapone, che poi ci sarà Jason X, che quello proprio non ricordo affatto, ma affronteremo tutto. Un caro saluto, magari la pensate come me o forse no, fatemelo sapere nella sezione commenti, noi ci vediamo ad un prossimo video, viva l'horror, vi ricordo di abbonarvi al canale perché se vi abbonaste ricevereste in cambio tanti contenuti extra oltre alla normale programmazione quotidiana. Ciao ciao!